Con grande gioia il mare si apre, si apre in tutte le sue dimensioni, le dimensioni trasportistiche, le dimensioni di tutela, delle acque, della pesca, della salvaguardia del cibo. Il mare è davvero l'elemento naturale di unione dei popoli e questo paese dipende dal mare, l'Italia dipende dal mare. Noi ci dimentichiamo che il 60% delle sue importazioni avviene via mare, il 50% delle sue esportazioni avviene via mare e che sulla superficie acqua il 90% delle merci viaggiano via mare e sotto il mare i dati dei nostri cellulari per il 97% sono appunto nel sottomarino. Ora, come si fa a dimenticare questa dimensione marittima? Come si fa a dimenticare il mare? Devo dire che l'osservatorio sta facendo un lavoro straordinario, mette insieme, contamina, unisce le diverse componenti del sistema mare. Un pianeta è il nostro che chiamiamo Terra, che per il 72% è fatto di acqua. Dovremmo chiamarlo pianeta mare.